e rifaccia la cosa. Vediamo questa come viene. Osservo che ci sono dei concittadini al servizio della collettività che al di là dei compensi che ricevono, che si danno, perché non si può dire che ricevono, non è che loro sono là e dicono ma hanno deciso, certe decisioni forse anche vengono forzate. Comunque io credo che aumenti di stipendio, aumenti di stipendi che già sono questi stipendi superiori, ben superiori ai 100.000 euro annui, darsi degli aumenti di 20-30.000 euro che corrispondono per una gran fetta di nostri concittadini a 20-30 mensilità con le quali queste persone devono vivere e far vivere le loro famiglie. Se penso che le mense comunali, quelli che sono i servizi alla persona che il comune offre, vengono affidati in base a gare d'appalto al massimo ribasso, dove vince la ditta o cooperativa, più facile, che fa il prezzo migliore. Tante volte io ho posto l'esempio di come si può ottenere un prezzo il più basso possibile, per esempio sulle mense scolastiche, sul cibo dato ai cittadini, come si può fare un prezzo basso se non tirando al massimo sull'acquisto alimentare e su quanto viene corrisposto ai nostri concittadini che operano e svolgono questo servizio.